Buongiorno a tutti, benvenuti nella sala del Consiglio Comunale di Castello Bolognese, un benvenuto a tutti i consiglieri e a tutto il pubblico molto numeroso che mi fa molto piacere vedere qui nella casa di tutti i cittadini castellani. Partiamo con questo Consiglio Comunale con la proposta di delibera di Consiglio, l'esame delle condizioni di elegibilità e convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019. Ora per l'appello e per la convalida degli eletti do la parola al Segretario Comunale Dottor Marcello Puglino. Grazie Sindaco, buongiorno a tutti, faccio l'appello dei consiglieri presenti, Linda Caroli, Esther Ricci-Maccarini, Gaspari Minzoni, Luca Selvatici, Daniele Meluzzi, Katia Ponzi, Barbara Orsani, Simone Merenda, Jacopo Berti, Marco Cavina, Ilva Bacchilega, Loretta Frassineti è il Sindaco che è anche un consigliere comunale oltre che il Presidente della seduta. Continuo Sindaco per il primo punto all'ordine del giorno che si tratta dell'esame delle condizioni di elegibilità e di convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale nella consultazione elettorale del 26 maggio. Tutti coloro che sono presentati alle elezioni, hanno partecipato alle elezioni e sono risultati eletti, hanno presentato le dichiarazioni che riguardano l'inesistenza di cause di incandidabilità, energiabilità e incompatibilità, sono delle cause di cui noi non abbiamo poi ricevuto comunicazioni o reclami da parte di nessuno, i consiglieri presenti se hanno ulteriori comunicazioni le facciano, se no passerei la parola al Presidente per votare, in dire la votazione, se il Consiglio si vota su questo punto, inizia tutti i consiglieri proclamati entrano a far parte formalmente di questo Consiglio e si inizia il Consiglio di questa sera oltre che della legislatura. Possiamo votare. Bene, quindi passiamo alla votazione, esame delle condizioni di elegibilità e convalida degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale nelle consultazioni elettorali del 26 maggio. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvata l'unanimità? Facciamo l'imera deduzione pure. Siamo votazione per immediato di disegibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? E' approvata l'unanimità. Quindi un applauso a tutti voi. Dimmi tre sputatori che serviranno per le votazioni. Esatto. Nomino tre sputatori perché nel Consiglio di oggi ci saranno alcune votazioni. Chiedo la disponibilità a Simone Merenda, Gatti Apponzi e Marco Cavina. Passiamo all'ordine del giorno numero due.